Oggi è proprio il caso di dirlo meno 20 puntate alla puntata 300 Regà, allora io nel momento in cui mancano solo 20 settimane Alla puntata 300 mi sembra che sia dopo domani I livelli di ansia salgono veramente alle stelle Ciao, due punti come state Bene, perché se io c'è la faccia coperta dalla sua stessa felpa Che freddo l'inverno Ciao amici, buongiorno, sono felice di fare le cose Ciao No, non ho capito questa gag dell'inverno Nessuna gag, c'è freddo Guardiamo avanti, quante pizze avete mangiato nella settimana Ma cosa sta succedendo? Comunque, allora questa settimana lo sappiamo già Perché ho ricominciato a mettere le pizze su Instagram Finalmente Solo una testa No, no, un addendum Ho mangiato una pizza surgelata che mi sono dimenticato di fotografare Da qui la splendida gag del freddo Bravo Sio, sei sempre organizzato Esatto, esatto Esatto per quello che l'ho fatto Adesso ho caldissimo No, ma tacetevi all'istante entrambi Perché ho una domanda Ma la pizza di cui invece ci hai mandato la foto A parte che c'è la foto più inquietante Mai fatta una pizza con le luci soffuse Tutto sembrava fatto in un ospedale abbandonato Ma poi come 35 euro per due pizze Ma dove starà cacchio l'hai comprata? Allora, non dire il nome del posto ovviamente Però nel senso Ma posso dire comunque il nome del posto Vabbè, no, lasciamo stare No doxing della bontà Esatto Perché era veramente buonissima Perché ci aveva le verze di passate La provola e gorgonzola Era veramente veramente buona E l'impasto era incredibile Ma era il minimo che fosse incredibile Perché due pizze 40 euro Grazie che almeno sei buonissima Ma poi Ma si sta alzando ogni volta che lo dici Sono 5 euro in più Cosa sta succedendo? No, no, no Costavano 45 euro Sì, sì, sì Due pizze 50 euro Quindi praticamente La questione Il perché ho pagato 55 euro per le pizze È che semplicemente È una pizzeria gourmet Che Bo aveva delle pizze Sembravano veramente interessanti Aveva detto Vabbè, spendiamo dei soldi gratis Sti 60 euro Esatto Spendiamo 65 euro E siamo tranquilli Comunque è arrivata Erano veramente entrambe Molto, molto, molto buone Il buio era Perché c'era il cinema La notte Stavamo guardando C'era la notte Come fai a saperlo? Doxing Scusate, io ho l'energia del caos Perché voglio solo Distruggere le cose oggi Compresi voi Vi distruggerò durante la puntata Non lo so Erano buone comunque Ridateci i miei soldi I miei 70 euro Comunque perché Non si capisce altrimenti Ma si ha l'energia del caos Perché è stanchino Per le cose del lavoro E della vita E quindi è come i bambini Oggi arriva qua Con delle energie weird Ho fame Scatenerà nel corso della puntata Punto di domanda Io spero di no Francamente L'unico modo per calmarlo E sgranocchiare dei grissini Solitamente Quindi Scronce Scronce Iniziamo a sgranocchiarli Da Dario Cid Dario Cidda Che dice Nick che legge sempre i grissini Che dicono che ha ragione Come quando Lor Leggeva i grissini Che parlavano di Dark Souls E sia con i grissini Iscritti da gente Con il nome Pazzerello Questa cosa conferma Perché io leggo solo I grissini Che mi interessano Nello specifico E che non aprono Spesso delle discussioni Sì però io alzo la mano Perché cioè Io la cosa di Dark Souls L'ho detta tipo Una volta Come gag Poi la gente ha iniziato A farlo Ma non ho mai Assecondato quella cosa Laddove invece tu Leggi effettivamente I grissini Della gente Che ti dà ragione Guarda io sono confuso Ma ho ignorato Questo intero grissino Perché non aveva Un nome buffo Quindi io vado solo Su Francesco Lucarelli Slash FK5HT Che dice La prova del fatto Che la scuola italiana Fa schifo E che mi hanno fatto Leggere Persepolis E mi ha annoiato Perché lo vivevo Come compito E questa è una delle cose Di cui non so la soluzione Ma uno dei miei grippi Con la scuola italiana Dell'obbligo Cioè Devi leggere delle cose Per forza Che è giusto Però Ci sono delle alternative Nel senso Se mi avessero fatto leggere I promessi sposi Al mio leisure Mi sarebbe piaciuto di più Non l'avresti letto Probabilmente Cioè nel senso Bello che consiglino Delle cose belle Comunque Già che le devi obbligare Le persone No ma non è un consiglio Quello è il problema Cioè Che ti dicono Lo devi leggere Certo Sì però Non so Non mi convince così tanto Questa cosa Perché invece Cioè nel senso Appunto Se ti danno delle Tra virgolette Letture obbligate Cioè ma benvenga Se sono delle cose Moderne Interessanti Che aprono al dialogo Come Persepolis Cioè comunque Io capisco tutta la cosa Progressista Nel senso del fatto Di lasciare più Spazio di manovra E spazio decisionale A ragazzini e ragazzini Ma scuola Delle cose Degli obblighi Li devi anche mettere Voglio dire Eh sì sì Ma scuola dell'obbligo Regà È quello che devi fare Obbligare i bambini A fare delle cose Ma sì sì Ma infatti A parte che sono genitore Ma Cioè vedo l'ora Il contrario di non vedere l'ora Che il mio figlio Vada a scuola Perché non ha voglia Di avere a che fare Con tutto il sistema scolastico Post Diciamo Asili eccetera Comunque a parte quello Una soluzione Che propongo qui In questo momento Vostro onore Potrebbe essere Obbligare a leggere Delle cose Ma dare un range Non dire Devi leggere questa cosa Per forza Ma dire Devi leggere tre romanzi Esatto Esatto Ok obbligare a leggere Per me Avrebbe reimparare a godersi Guardiamo qualcosa Ti vengo però È abbastanza importante Tra virgolette Una serie cinese A livello di regia Che ti dà La seconda metà Perfetto 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 Incredibile Che dice Mangiate la droga Chili dogs Ok ok Interessante No quindi Sì capisco Che sia un po' più Meno efficace La seconda parte Però secondo me Comunque fa Esattamente Quello che voleva fare Con molto interesse Da parte mia Non è veramente Molto interesse Tra l'altro Fran giustamente Scrive La cosa peggiore Che l'umanità Abbia mai fatto Fino ad ora Come di Omer Che parla con Bart Comunque Passando oltre Mi perdonerete No io ho l'ultimo grissino Ti chiedo scusa Allora non passando oltre Dicevi Passando fermi Franky dice Pokemonza 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 Fine del grissino Persone a cui interessa Era questo grissino Una cichibe Che per qualche ragione È ossessionata con Monza Ok ok Interessante Cioè ci vive Non è ossessionata E lo so ma ci vive Ma pure io ci vivo a Mestre Ma non è che tipo Vado a fare proselitismo In giro L'unica volta tipo Che è venuto a fare Il discorso di Monza Era tutto un Elencare le cose Incredibili di Monza Tra cui Monza città Alla sigla Cantata da Giorgio Vanni A quanto fare Fermate la puntata Di Power Pizza Cosa significa Sigla Monza Sigla Ma non lo so ma chiedilo a Cichibe Io non ho idea Cosa vuol dire Monza is my destiny Cos'è questa roba È tipo l'inno del Monza Non è la città Ah ma è della squadra di calcio Esatto Penso che sia la squadra di calcio Non lo so Non ho idea Perché ammetto che ho ascoltato Il 60% Perché la guardavo E dicevo Mi sta dicendo delle cose potenzialmente interessanti Ma è anche completamente pazza Voglio davvero ascoltare Tutto questo Sproloquio su Monza Su Monza E la risposta era in parte Se adesso invece siamo Sono libero di Portarvi un paio di menus Assolutamente sì Io Io vorrei Non stare ascoltando Monza is my destiny Ma è la canzone È la canzone di Dragon Ball La sono cambiate i testi Ma cos'è Allora sì però Dobbiamo mettere in chiaro una cosa Perché non è che puoi Sfrangiare le palle a me Se guardo la live chat E poi se parliamo di tipo Una canzone in puntata Non si fa Ti ammetti ad ascoltarla Durante la puntata Una canzone in puntata È una cosa La sigla di una città Cantata da Giorgio Vanni Io mi interrompo Ve l'ho detto Fermate il podcast Vai pure avanti Smetto di ascoltarla Adesso temporaneamente Velocissimo C'è stata una cosa Di cui ignoravo l'esistenza Che era il Future Game Show Che come suggerisce Il titolo Era uno show Dove si parlava di giochi Del futuro Ok Me lo sono guardato Sul Pizzord Con altre personcine Di quelle cose Che te lo guardi Senza troppe aspettative E chiacchieri Dicendo ovviamente Chissà se annunceranno Silk Song No non è stato annunciato In compenso Hanno fatto vedere Altri giochi Che non conoscevo E altri che invece Avevano già annunciato Ma hanno fatto vedere Più footage Più materiale E ce ne sono tre Regà Che cioè Me li sono pinnati Mentalmente Anche su Steam Perché Star interessante Allora Prima di tutto I tizi di Ori Io Ori Non ho un grandissimo interesse Bello è Per l'amore del cielo Super rosannato Ma non mi interessa granché C'è questo gioco In uscita loro Che si chiama No Rest for the Wicked Sembra una roba Fucking incredibile Allora È una cosa tipo Di azione avventura Ma a me la cosa Che ha stupito Ha lasciato a bocca aperta È la direzione artistica Perché ha la luce Cioè ha proprio la luce L'illuminazione Che è una roba Incredibile Che mette benissimo Gli accenti sulle cose Che devi notare Siano essi i personaggi O delle cose ambientali Regà Subito messi in wishlist Quello è il primo Holstein Che è tipo un gioco Horror pixeloso Super strano Che passa continuamente A visuale top down A prima persona Quello del guidare Devi anche guidare Esatto Ci sono anche delle parti Di survival Che poi tra l'altro È il secondo In questo periodo Non so perché Stanno iniziando ad andare di moda I survival horror Dove guidi un'auto Per qualche ragione Questo è uno dei due E il terzo Regà Super stranissimo Tenebris Somnia Cioè praticamente È un horror In pixel art Ma quando dico pixel art Cioè ricorda quasi Maniac Mansion Cioè veramente Stiamo parlando di una pixel art Un mega pixel art Iper semplice Ma Che ogni tanto Passa delle parti In live action Cioè girate con attrici e attori Quindi tipo Che ne so C'è la protagonista Che entra Non so In una camera da letto Con questi due corpi Insanguinati a letto Ovviamente sono resi Con una grafica Estremamente old school E pixelata E parte La cutscene Parte una scena Di interazione Girata con gli attori Proprio come se fosse Un film horror Boh Stilisticamente Super strano Mi ha mega incuriosito Sì Tenete a mente Questi tre titoli Perché poi magari Usciranno e saranno una sola Ma a livello di presentazione Mi sono rimasti nel cervello Devo dire che No Rest for the Wicked È una cosa Che mi avevano già Un po' di persone Detto tipo Questo è un gioco Che potrebbe molto interessarti Eh cacchio Sembra veramente Sì Grazie di Tenebris Somnia Perché mi interessa Tantissimo Questo switch Ma è un horror E il trailer Mi fa paurissima Allora Posso confessarti Fa iper paura Fa iper paura Infatti è uno di quei giochi Che non giocherò mai Ma guarderò qualcun altro Che ci gioca Perché mi interessa Ma io mi caco troppo Per giocarlo Cioè no Nel senso A 20 secondi C'è una tizia In pixel art Che ti insegue E poi c'è immediatamente Dopo La tizia realistica Che ti sta per mangiare La faccia Dico ma non voglio mai Giocare È interessantissima Questa cosa Sì 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 E niente Quindi queste tre cose Ecco E anche io Vi voglio consegnare Un gioco Molto Molto horror Che si chiama Yellow Taxi Goes Vroom Wow Che titolo incredibile È un platform In cui sei un taxi Con una manovellina Ma come è un platform È un platform 3D Taxi Cioè io pensavo Su un gioco di guida No È un platform È un platformino Però devi saltare Col taxi Sì 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 No è bellissimo È un gioco platform In cui sei un taxi Che deve fare delle cose E non capisco Cos'è questo gioco Ma ha una presentazione Coloratissima Sembra divertente Semplice E ha quello stile Sai Nintendo 64 Ma moderno Sì 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 Sto guardando adesso Ma poi tra l'altro Perché c'è una scena Dove il taxi È in palestra E sta facendo Sollevamento pesi Con un gorilla Il protagonista È un taxi Ma cosa vuol dire Wow Io so solo Che seguivo su TikTok Appunto Mi è apparso Questo gioco su TikTok A quanto pare TikTok sa che Mi piacciono i giochi stupidi E quindi ogni tanto Nella For You Mi appaiono dei giochi Stranissimi Tipo questo Bellissimo E sta per uscire Il 9 aprile Quindi Yeah Mettetevelo in wishlist Su Steam E non so su cos'altro Comunque si Collectaton Dell'era Nella Nintendo 64 Ma sei un taxi Mi piace perché Dietro anche la carica Molla Sì Infatti sembra bellissimo Ascoltate Posso dire tra le main news Il casino che sta succedendo Con Apple E l'Unione Europea Sai che non so niente Quindi ti prego Illuminami Non sapete niente Faccio un riassuntino Perché magari ne parliamo meglio Quando accadono le cose Che possiamo usare Ma sostanzialmente L'Unione Europea Ha detto Ciao Apple Le tue pratiche Di avere l'app store E basta Sono super anticompetitive Ok E quindi devi permettere A altre persone Di creare degli app store Urca Sì sì E quindi con iOS 17.4 Che è appena uscito Adesso c'è la possibilità Per uno sviluppatore Di creare degli app store Alternativi Tra cui per esempio Epic Che è stata quella Che è stata calciata fuori Dalla app store di Apple Perché aveva messo Le microtransazioni Non tramite Apple In Fortnite Questo addirittura L'avevamo menzionato In puntata un miliardo di anni fa Però adesso Epic Con il suo account Di Epic svedese Ha fatto un nuovo account E hanno detto Che entro l'anno Uscirà l'Epic Game Store Su iOS Ok E quindi in generale Volevo dirvi Stay tuned Perché probabilmente Nei prossimi mesi Arriveranno tipo Gli emulatori Cioè nel senso Diventerà una piattaforma Solo in Europa Questa cosa qua Però diventerà Una piattaforma normale Come Android Windows e Mac Ci sono un sacco di caveats Ci sono un sacco di cose Che Apple trascina i piedi Tantissimo ovviamente Ovviamente Sì tipo Non è che mi aspettavo Compliance immediata Di questa cosa Proprio no Infatti c'è nel senso A me che interessa Sto seguendo un paio di podcast Che praticamente ogni settimana C'è Apple che dice Ecco qua la nostra compliance PDF di 20 pagine L'Unione Europea Che dice Ok queste 20 cose Non vanno bene E quindi vanno avanti Così da un sacco di tempo E in un momento E in un momento in cui Perfino anche L'antitrust Statunitense Sta facendo causa Apple per cose anticompetitive Quindi potrebbero cambiare Leggermente alcune cose Degli equilibri Degli equilibri E' interessante Restate tonnati E se è interessante Se io non seguendo Minimamente queste cose Non essendo particolarmente informato Ero completamente fuori dal loop Quindi non riesco a capire Quali siano Sai Le implicazioni E come potrebbe cambiare Però ok Tienici aggiornati Così mi spieghi tu Man mano Cosa succede Anche semplicemente Aprire un mercato Più competitività Pagare meno soldi Per delle cose Tipo Spotify Che puoi pagare Meno soldi Su iOS Perché vabbè E' un casino Ho anche un loro Wappino E cioè Vi ricordate Quando qualche minuto fa Avevate detto Problema dei tre corpi E io ho detto More on death later More on death now Ok Pensavo stessi ancora Parlando di Giorgio Vanni Figurati Non ricordarmelo Mamma che buono Giorgio Vanni Onestamente Quando ha detto Loro Wapp Anche io ho detto No monza di nuovo Here we come Surprise Non ho mai smesso Di ascoltare Quella canzone Mentre parlavo No ok vai avanti Prego Cosa volevi dire No prima che me lo dica La gente nei commenti Sì o stai guardando La serie del problema Di tre corpi Che è uscita su Netflix Sì la sto guardando Non l'ho finita Ne parliamo Quando la finisco Per ora sono contento Di rivisitare questo Ccccp Aspetta 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 Questo classico contenuto Di Powerpizza Ma senza dire niente Appunto perché la sei ancora In corso d'opera Brutta Prima impressione Bella Prima impressione Prima impressione Decente Cioè nel senso Allora In pizione Si ho disfatto Con riserve Nel senso che Ci sono dei pezzi belli Cioè corre molto Però diciamo Hanno cambiato tantissime cose Ovviamente Perché appunto Non c'erano i personaggi Nei libri Quindi Però sì Ne parliamo meglio La prossima volta Di base Ho voglia di guardarla Quindi questa è L'unica cosa Che mi interessa Va bene Va bene Noi abbiamo detto Tutto quello che volevamo dire Nella puntata di oggi Quindi ci sentiamo La prossima settimana Potrà montare Una puntata di 25 minuti Evviva Il sogno No vai tranquillo Lorro perché In realtà adesso Ti sto per parlare Di una cosa È un corto Negli scorsi giorni Mi sono andato a riguardare The Wonderful Story Of Henry Sugar Che è il corto Quello ispirato Dalla storia di Roald Dahl Girato da Wes Anderson Che ha vinto Gli Oscar di quest'anno Ok E sono andato a riguardarmelo Perché mi ricordavo Che non era quello Che mi era piaciuto di più Di quel ciclo di corti Che c'erano su Netflix Nel mentre Mi sono anche ricordato Che un corto Che aveva vinto l'Oscar Nel 2021 Era un contenuto Su Netflix Che avevo in lista Da un miliardo di anni E che non avevo mai guardato Quindi ho detto Guardiamo quindi Two Distant Strangers Voi l'avete mai visto? Two Distant Strangers? No lo sto googlando adesso Non ho veramente idea Di cosa sia Io l'ho visto Ma spiegalo agli altri Perché io l'ho già visto Cioè Poi smetterla di fare Questa cosa Ogni volta Cosa Avere visto le cose È impossibile Aspetta L'hai visto davvero? No Ovvio che no Mi faccio beittare Vai avanti Nick Scusa Comunque Two Distant Strangers È un corto Di 30 minuti circa Che trovate comodamente Su Netflix Quindi se volete Andarlo a guardare Sapete come fare Che è uscito Alla fine del 2020 E ovviamente Momento molto importante Per il movimento Black Lives Matter Perché era appena successo L'incidente con George Floyd L'omicidio Non l'incidente Scusate Grazie Per esserti corretti Grazie Però di George Floyd C'era già una lista infinita Brenna Taylor Tamir Rice Ci sono tutta una serie di nomi Che abbiamo Fortunatamente Sentito utilizzare Molto spesso dopo Perché almeno Un minimo si è parlato Della brutalità Della polizia statunitense Nei confronti Dei cittadini afroamericani Meno male Che sono negli Stati Uniti E non succedono Esatto Non d'altra parte Vai avanti Vai avanti ti prego Però no Questo corto Parla esattamente di questo Se ve lo dovessi spiegare Con una frase Sarebbe il giorno della marmotta Per una persona di colore Che subisce della violenza Brutale da parte della polizia Aspetta ma è il peggior giorno della marmotta Scusa È il peggior giorno della marmotta Di sempre assolutamente Oppure entrambi i giorni della marmotta Sono molto accurati Perché Come si chiama Quello del giorno della marmotta Bill Murray Bill Murray Bill Murray Bill Murray E quindi la sua giornata È andata super tranquilla Perché è bianco Non è un contesto neanche simile Vabbè ok Però c'è una roba Comunque La storia è quella di Carter James Che è questo fumettista Che si sveglia Una mattina Dopo una one night stand Con una ragazza Che gli piace un sacco E si salutano Hanno questo momentino Di pseudo imbarazzo Abbiamo appena fatto le cose Durante la notte E ora non sappiamo Come interagire Gli uni con gli altri Lascia l'appartamento di lei Si accende una sigaretta Viene fermato Da un poliziotto Che inizia tipo A trattarlo molto male A dire Quella sigaretta Non ha l'odore di una sigaretta Secondo me c'è qualcos'altro E lui risponde Agente Il fatto che lei non sappia La distinzione fra una sigaretta E della droga Non è un mio problema Buongiorno Questo lo ferma Mettiti al muro No eccetera Arrivano altri due agenti Lo schiacciano E lo soffocano Esattamente come è successo Con George Floyd Lui finita questa cosa Si risveglia Ed è l'inizio Del film Di nuovo Di conseguenza Lui si è appena svegliato Nel letto di lei E si ripropone La stessa giornata Esce fuori E in un altro modo Incontra lo stesso agente Che finisce ad ammazzarlo Esce di nuovo Incontra la gente Esce di nuovo Incontra la gente Esattamente questo il film Cioè ma veramente The worst Russian doll Cosa wow Assolutamente sì Ed è un film Che effettivamente Secondo me Ha bisogno Ha voglia Proprio nel suo linguaggio Di farti vedere Delle situazioni Che sembrano paradossali Che sembrano assolutamente Irreali Che tra l'altro Sembrano esageratamente Tipo Violence porn Dopodiché Vai un attimo A fare della ricerca Post film E ti rendi conto Che la maggior parte Delle scene Che hanno scelto Per questa cosa Sono delle scene reali Sono cose Che sono successe Sono prese da eventi Realmente accaduti Ok Sono ovviamente ispirate Perché devono stare All'interno di un corto Quindi non può essere Esattamente uguale Uguale Però ci sono veramente Due o tre istanze Dove dici Vabbè ma questa cosa È inverosimile Non ha senso Tipo la SWAT Che entra dentro Un appartamento E che inizia a sparare E poi dice Ma questo è l'appartamento Di quella cosa E dice No era l'altro numero Non siamo noi Però intanto La persona è morta Quindi Veramente strano Molto bello Perché riesce Con il suo linguaggio A far passare Il suo messaggio Quindi La trova una cosa Riuscitissima Scorre che è un piacere Perché è girato molto bene Tra l'altro Esordio Registico e di scrittura Di un comico Che fa Free di cognome Non mi ricordo adesso Come si chiama Trevon Free Vinto immediatamente L'Oscar Nel 2021 Con questo corto Secondo me Meritatissimo Molto bello Molto interessante Mi è piaciuto Particolarmente Il modo in cui Mi ha fatto sentire Mi ha fatto allontanare Dalla questione Cioè secondo me Riesce In che senso? Eh mi sono sentito Un po' Un po' spinto via Un po' Non voglio vedere Questa cosa È esagerata Non ha senso Mi ha creato Dei sentimenti contrastanti Che Sono quelli Che secondo me È giusto che mi crei In quanto io La situazione Della brutalità Della polizia Nei confronti Delle persone afroamericane Il razzismo Eccetera Sono cose che non vivo Nel senso Non sulla mia prima persona È un paese diverso Tu sei bianco Ok Però non capivo Il discorso del Trovo giusto Che mi abbia Allontanato dalla cosa Forse era solo Come era espressa Ma è un attimo Confuso Assolutamente Mi sono espresso male No quello che volevo dire È che Mi mostra una realtà Che Di impatto Mi viene da dire Non essere vera Sì dici Cioè nel senso Mi sembra tutto Esageratissimo Nel senso È di sicuro Iperbolica Questa roba Che mi sta mostrando Esattamente Quindi L'ho trovato proprio Riuscito in questa cosa Quindi è una cosa Che vi consiglio Perché sicuramente È bello È ben fatto Non è facilissimo Da digerire Però aiuta il fatto Che è girato molto bene E che è interessante Che soprattutto Verso il finale C'è tutta una parte Di dialogo Secondo me Molto molto interessante Che affronta In una maniera Splendida Il tema In generale Del razzismo E della brutalità Della polizia Nei confronti Di etnie diverse Cioè esatto Non bianche Diciamo Sembra mega interessante Io ho solo un problema Che non lo guarderò mai Perché non gli hai dato un voto Quindi io non so Se mi stai effettivamente consigliando Assolutamente sì Sono otto fette di pizza e mezza E la pizza C'ha i croccantini del cane Sopra però Ok ok Immagino sia una di quelli Case in cui Se vedo il film Ha un senso Maledizione Oddio Ma in questo caso Non posso neanche dire Che non sia odibile Me lo rimangio Me lo rimangio Me lo mangio io La pizza con i croccantini Non avevo pensato Che c'è una reference Molto migliore Ossia che È una pizza dolce Con la nutella E lo zucchero a velo E la base della pizza È fatta di french toast Ok Non è una pizza È un french toast Stai zitto È una french pizza Lascia che la puntata Vada avanti Ti prego No No anzi La fermo qua Perché volevo chiederti Quante fette di pizza Dai al corto Da cui hanno tratto Questo corto Plagiandolo In che senso Perché hai letto Una cosa a caso E non sei andato a fondo Alla questione Allora Sì sono stati accusati Di questa cosa Esatto Ma non è vero Una volta Non lo so se è vero So solo che C'è un altro corto No 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 L'importante è il drama Raga E l'importante è il drama E il video su tiktok Stiamo arrivando con te Ma stiamo diventando Anche tipo Pericolosamente vicino Tipo a quelle cose che Ah ecco Una teoria del complotto Ma signore Non è mai successa questa cosa Ma poteva essere successa E se fosse successa In vice Think about it Cioè tu hai cercato Groundhog Day For a Black Man Giusto? Quello del 2016 Hi Hello Esatto Groundhog Day For a Black Man Guardatevi anche quello Più che altro Perché dura 4 minuti Se non avete tempo Di guardare l'altro Guardate quello Wowissimo Ok Proprio ottimizzare Il tempo al massimo E guardate la due per Il drama di internet Era nato dal fatto che La regista che ha fatto Groundhog Day For a Black Man È stata chiamata Per essere intervistata Da un'emittente televisiva Durante i movimenti Del Black Lives Matter Eccetera eccetera E caso vuole Lo stesso anno Qualche mese dopo Esce questo film Che è stato girato Già nel 2020 Cioè quindi Sembrava proprio La stessa emittente televisiva Poi è quella che finanzia Questo film Ma hanno ciulato l'idea Invece era venuto fuori Che la scrittura Era già stata fatta Tempo addietro Eccetera eccetera Ma sì ma infatti Hanno inventato il telegio Non è proprio due persone Contemporaneamente Quindi queste cose succedono Comunque sia Ridate l'Oscar Alla tizia di YouTube Esatto Drama for life Sì o complottista Ascolta Io invece Come vi dicevo Nell'after show Della puntata scorsa Non dateci dei soldi Punto com Ah sì Oddio posso fare Un breve recap Di quella cosa Sì Nell'ultimo After show Sì o guarda tutto È un recap perfetto Perché giustamente Nell'ultimo after show Sì ci ha detto Ah sì sto guardando Questa cosa Questa cosa Questa cosa Questa cosa E Nick giustamente Ha chiesto Scusa Tu hai una gestione Del tempo di merda Perché non hai Tempo per vivere È una buona idea Iniziare a vedere 18 cose diverse E non sapevo Non pensavo Ci sarebbe già stato Un aggiornamento Subito oggi Allora intanto Un aggiornamento È che ci ho aggiunto Il problema dei tre corpi Che ha le puntate Da un'ora No ma comunque Come vi dicevo Nell'after show È esattamente Andata come previsto E cioè Nel momento Del mangiare Io quello Che cercavo di avere Era un Brooklyn Nine Nine Un The Office Una comedy Da mezz'oretta Che occupasse Lo spazio Che povero Brooklyn Nine Nine Vi ho detto Che ho finito Di vedere Brooklyn Nine Nine Ah no Non ce l'hai detto Ti è piaciuto Fino alla fine Spero di sì Perché se no Non hai i gusti Allora intanto Sì bellissimo Ma soprattutto Non sapevo Di stare guardando Il finale Cioè io continuavo A guardare Ste puntate E dico Ma perché ci sono Tutte queste citazioni Matte Di tutta la storia Ah ok Ha senso È il finale Bellissimo Sono lieto Che tu l'abbia finito Mi è piaciuto Veramente Veramente tanto Brooklyn Nine Dieci fette di pizza Però a parte quello Adesso sto provando A inserire ai momenti pasti Una nuova serie Solo perché C'è appiccicato Il nome di Tina Fey Io Tina Fey La amo moltissimo 30 Rock Being Girls Tante robe C'è questa serie Di cui è appena uscita La terza stagione Ma non avevo nemmeno idea Che esistesse La prima e la seconda Dimmi che hai guardato Diretto la terza No Ho guardato L'inizio Della prima puntata No Della prima serie Di Girls 5 Ever Adesso non posso fingere Di non sapere cosa sia Solo perché ci hai già dato Un'infarinatura Nell'ultimo after show Ma appunto di cosa si tratta Si tratta di Praticamente Questa girl band Alla Spice Girls Che sono praticamente Le Spice Girls Degli anni 90 Sono 5 Esatto Praticamente Sono delle one hit wonders Fanno questo album Bellissimo Ma poi diventano Totalmente delle sconosciute E adesso le conosciamo 30 anni dopo Che sono Una è una madre Una è una dentista Eccetera eccetera E quindi Sono loro Che si ritrovano E vogliono di nuovo Fare le pop star La musica Vogliono rimettere insieme La vecchia band Vogliono rimettere insieme La band Letteralmente Stiamo rimettendo insieme La band E una delle cose Che non mi aspettavo È che c'è René Elise Goldsberry Che è una delle Come Stavo cercando una perifrasi Era in Hamilton Stavo cercando di nascondervi Ah infatti Sto Ho googolato adesso Ho detto Oh no Io ho già visto questa tizia Ecco perché È maledizione Però non solo Lei mi sa che c'era anche in The Good Wife Tanta roba Sì esatto Infatti Comunque sia Sì c'è Lei che è quella Mega pazza Che si dà le arie Da artista Che ha sempre cercato Di fare l'artista In tutti questi anni Poi c'è Paul Pell Che fa Gloria Che è questa Che è cambiata tantissimo E poi vabbè Sostanzialmente La questione è che Fa ridere Un po' Non abbastanza La regia è brutta Ma soprattutto Io interrompo qua La recensione Perché ne ho vista Solo metà della prima stagione Interrotta la recensione Pensavo metà Della prima puntata E dicevo Wow è una di quelle cose Talmente brutti Che poi fa ridere Invece no Ok metà della prima stagione Ci stava bene Ma vuoi andare comunque avanti Perché finora Non ne hai parlato bene Quindi mi sembra Che abbandonerai questa serie Hai detto che la regia è brutta La regia è brutta Ma ci sono tante perle Molto divertenti Cioè è scritta molto bene Ma non è sfruttata bene La scrittura Ma ve lo spiegherò meglio Quando finirò la recensione Di almeno una serie Domanda Quante puntate hai visto quindi? Cinque puntate Ok no perché mi chiedevo Se valeva come per gli anime La regola delle tre puntate Che tipo ti ricordi tre puntate Che hai visto cinque Ok va bene Addendum Una delle cose Che mi dispiace un po' È che è una serie Molto musicale no? Quindi ci infilano Le loro canzoni Però musicalmente Ecco il vero motivo Per cui si io non può Interrompere questa serie Ok Allora no No perché Il vero motivo Per cui non la voglio Interrompere È la risatina Cioè che ogni puntata Almeno una risata grossa Me la fa fare E ci sono varie risatine Ma le canzoni Sono quasi la roba più debole Perché cioè Fa ridere il testo Della canzone Ma musicalmente Non è interessante Non dici Cioè non le ascolti E dici Ah ok Questa potrebbe essere Davvero una canzone Delle Spice Girls Degli anni 90 No sono tutte Ok Per ora eh Magari adesso scrivo La vera hit Che sarà Non lo so Non lo so Vedremo Una nota di colore Una nota di colore Che non riesco a togliermi Dal cervello Grazie ai miei genitori Girls 5 Ever Il 5 È scritto con lo stesso 5 Di canale 5 Lo stesso font Devo googolare subito il titolo Wow Unexpected cosa E quindi io guardo Sta serie Ma ogni volta Vedo scritto Girls 5 Ever Penso a Jerry Scott Ma scusa Ma è un 5 genericissimo In un font super generico Cioè io mi aspettavo Che avesse non so Il fiorellino Della Mediaset Eh no Della Fininvest Cioè cosa Eh no Ah no Quanto pare non stai trovando Cioè quello Quello vero Ecco Quello che c'è nel logo Quando c'è la sigla iniziale Allora io ve li metto A schermo entrambi Nella puntata video Non esistono due 5 Più diversi Fateci sapere nei commenti Impariamo da questa cosa Di youtube Scrivete nei commenti Qual è il vostro 5 preferito Allora scusate Però Devo dire una cosa Lorro metti Il logo classico Del 1985 Di Canale 5 Non sai mia madre Non mi dice cosa mettere Ti sto dicendo cosa assomiglia Attaci Assomigli al logo classico Di Canale 5 Allegria Devi stare zitto per Una ragione Io sono stato blessato Nuovamente Dagli dei dei videogiochi Allora Non so che cosa ho fatto Allora Ammetto Ho un po' di paura Perché quando succedono Le cose belle In fila Io ho sempre il dubbio Ma mi staranno succedendo Perché me le sono meritate O sono che poi Vado a debito Tipo adesso Non è succedendo Di belle Non esiste questa cosa L'universo è caos Devi stare zitto Perché non sai Chiaramente le cose Che so io No Sono stato blessato Di nuovo Dagli dei dei videogiochi Perché io avevo in wishlist Da tantissimo tempo Un gioco Che si chiama The case of the golden idol Che ha delle votazioni Ottime anche su steam Ce l'avevo lì Però vabbè Avevo sempre altro da fare Finito Chance of Senar Mi è rimasta talmente tanto La voglia di giochi Investigativi Che ho detto È il momento Proviamolo Regà Che gioco investigativo Sopraffino Allora Di che cos'è Lasciatemi che Sì no Bellissimo Allora È tra l'altro Di un piccolo studio lettone E quando dico piccolo Intendo che sono letteralmente Due persone Si chiamano Color Grey Games Ed è il loro unico gioco all'attivo Cioè questo The case of the golden idol Che è una storia Che inizia nel 1742 E che attraversa Tutto il secolo Fino a quasi Alla soglia del 1800 Ci sono tutti i casi Separati Adesso vi spiego Un attimo meglio Ma c'è questa storia Orizzontale No Che è spezzata In singoli casi Sempre di omicidio Qualcuno muore Sono sempre È sempre Una situazione investigativa E ogni caso È distante Uno dall'altro Anche di parecchi anni A fare da Phil Rouge Però Ci sono sempre due cose Quest'idolo d'oro Che è quello che appunto Poi dà il titolo del gioco Golden Idol Esatto Tu sei già un bravissimo detective Che hai capito questa cosa Che questo idolo Che sembra avere Dei poteri soprannaturali Punto di domanda E la seconda cosa È la famiglia Cloudsley E i vari membri Della famiglia Che si succedono Allora Che cosa è questa roba Stranissima A livello di meccaniche È fondamentalmente Un punta e clicca Investigativo Cioè Tu hai Dei piccoli diorami Praticamente Che sarebbero statici Perché è un momento Fissato nel tempo Ok Tipo non so L'esplosione di una bomba Cioè c'è proprio La bomba nel momento In cui esplode Poi ovviamente Tutti è lievemente animato Tra l'altro In uno stile estetico Che io Mi manda via di testa Perché è moderno Ma è comunque Molto riminescente Dei giochi Pixel art Vecchi Voglio dire Delle avventure grafiche In pixel art E tu hai appunto Questo momento statico Dove tutto è un po' animato Per dargli dinamicità Ma il momento è fermo così Ok Come nei Saturn Investigations È molto più bello Di qualsiasi E il gioco si divide Fondamentalmente In due fasi Tra virgolette Esplorazione E thinking Allora Esplorazione che cos'è Sei tu È come se fosse Un punta e clicca Tu hai di fronte Questo diorama O questi diorami E cliccando Sulle varie Sui vari personaggi Sui vari oggetti Sui vari ambienti Trovi degli indizi La cosa bella è tra l'altro Che c'è la possibilità Che mi sembra già attiva Di default Di evidenziare i punti di interesse Così non devi fare pixel hunting Che comunque Non aggiungerebbe niente al gioco Perché non è quello Il fulcro della cosa Non è cercare le cose Ma è collegarle in maniera logica Quindi appunto Tu in esplorazione Sei lì che raccoglino Tutti i vari indizi E poi passi alla fase thinking Tu ti puoi muovere Tra le due fasi Liberamente in qualsiasi momento La fase thinking Che cos'è? Ognuno di questi diorami Ognuno di questi casi Ha una serie di campi da riempire Cioè tipo Tu puoi avere una frase In cui mancano dei pezzi Puoi avere dei ritratti Delle varie persone Senza i nomi Puoi avere la mappa Di una casa Senza i nomi Delle stanze Delle locazioni Tu esplorando Inizia a capire Perché quando ti si para Davanti un caso La prima volta Non hai idea Di cosa stia succedendo Ti trovi davanti Questa scena Caotica Di cui spesso Non sai neanche Chi sono i personaggi Perché magari Uno o due le hai già visti Ma tutte le altre persone Non sai che cacchio sia Noi cosa stia succedendo Iniziando a leggere Perché poi ci sono Un sacco anche di Diari Di cose che puoi Andarti proprio a spizzare A leggere nel dettaglio Osservando le dinamiche Della scena Facendo dei ragionamenti Proprio attivando La parte deduttiva Del cervello Inizia a dire Ah magari È questa la situazione E nella parte thinking I vari indizi Che raccogli Tipo non so Clicchi sul diario C'è scritto Gianni Pinotto Gianni Pinotto Ti viene Il testo Diventa un indizio E tu lo puoi mettere Dentro la parte di testo Da completare Bellissima Anche perché L'atmosfera È la cosa che mette Il fiocco Su tutta questa cosa Che già meccanicamente Sarebbe super sound Cioè è proprio una cosa Che funziona benissimo A livello di meccaniche Ma in più Hai questa atmosfera Super strana E super specifica Che nel mio cervello Era a metà Tra un Return of the Obra Dean E un Monkey Island Perché anche questo gioco Ha assolutamente Un suo tipo di umorismo Però è molto più Nero Di quello slapstick Di Monkey Island Io in più di un momento Mi sono trovato A ridacchiare Però non è Quell'umorismo Demenziale Alla Monkey Island Però c'è Una parte umoristica Nella cosa Ok Ma Sulla parte invece Di Return of the Obra Dean Il gioco di Lucas Pop Sì certo Questo per me È quello che avrei Sempre desiderato Che fosse Return of the Obra Dean Perché anche se Quel gioco è super celebrato Io non sono mai riuscito Ad amarlo L'avrò iniziato Dieci volte Puntualmente Lo pianto lì Perché Return of the Obra Dean Fa quella cosa Che non ti lascia Specie all'inizio Il tempo di ragionare Cioè le cose Si avvicinano In maniera molto frettolosa Ok Qua invece Non è mai il gioco A dettare il ritmo Ma è il giocatore Che si può prendere Il suo tempo Per riflettere Quindi una persona Come me Che è ottusa E che ha bisogno Di ragionare Sulle cose Per mezz'ora Non sei Overwhelmed Da tutto quello Che il gioco Ti lancia addosso No tu hai la tua scena Inizia a investigare Hai il tempo Di mettere insieme i pezzi E appunto A livello di atmosfera Hai questa estetica Da appunto Seconda metà Del settecento Che è super Valorizzata Da una colonna sonora Ottima Con quelli che A me sembra Io da profano Spero che non arrivi Fabio Antonelli A picchiarmi Ma sembrano Strumenti d'epoca Nel senso che Hai violini Clavicembole Che creano Queste atmosfere Che sono Anche quasi Gioviali Delle volte Ma poi Spesso Velocemente Diventano più Dissonanti Anche lievemente Inquietanti E commentano Benissimo Quest'atmosfera Che c'è E questa estetica Che già Li è soggettivo Ma con me Ha cliccato Tantissimo Ti giuro Inaspettato Ho già comprati I due DLC Ma non li ho ancora Iniziati Il gioco veloce Tra l'altro Ah l'hai già finito? Sì 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 In meno di una decina di ore Sono dieci o undici Casi totali Completa Smetti di dire veloce E dieci ore Sì Ave pazienza Meno di dieci ore Per un gioco Mezz'oretta Dieci ore Monster Hunter L'ho finito in sette ore Tovia Ok Ok vabbè dai Per me Sono nove fette Di una pizza rossa Molto piccante Con friarielli E olive taggiasche Ti dico anche Perché non raggiungi I dieci Perché in un singolo caso C'è un dettaglio Diciamo una parte Deduttiva Che è l'unica Che in tutto il gioco Secondo me Non è così logica O comunque Non è così centrare Al delitto Che stai osservando In quel momento Ma comunque Ti sto parlando Di una virgola Cioè veramente Una cosa minuscola In un gioco Che se no Sarebbe perfetto Io alla fine Io alla fine del gioco Vi faccio solo un invito Giocatelo Non cercate niente Non usate gli indizi Ve lo godete Cinque volte tanto Io quando l'ho finito O meglio Credevo di averlo finito Perché poi c'era un epilogo Sono andato su Reddit Per cercare altre persone Che l'avevano giocato Cosa ne pensavano Leggendo i commenti Mi hanno fatto notare Una cosa A cui io non ero ancora arrivato Ma che se avessi avuto pazienza Nell'epilogo Sarebbe diventato evidente Ed era un grosso Una grossa parte Di ragionamento Di tutto il gioco Quindi Diciamo Uno dei Gli enigmi Uno dei misteri Più grossi del gioco Me lo sono spoilerato Involontariamente Per la fretta Che avevo Di andare a leggere I pareri di altre persone Che come me Avevano amato il gioco Non cercate niente Su internet Non usate il sistema di indizi Piuttosto Se siete bloccati Lasciatelo lì Ci tornate il giorno dopo Non vi pentirete Ne vale tantissimo la pena È un gioco Che arriva tanto così Da essere perfetto Vi giuro Incredibile Quindi mi stai dicendo Di comprare delle azioni Di Reddit Aspetta non ho capito Cosa c'entra Adesso Reddit È portato in borsa E Reddit Eccetera eccetera Però sembra Veramente figo E mi hai ricordato Che io voglio tantissimo Giocare a un altro punto E clicca su Switch Che si chiama Paranorma site E non c'entra niente Però l'ho guardato Switch list In questo momento È 40% di sconto E quindi intanto L'ho comprato Quindi grazie l'orro Del consiglio Di un altro gioco Che mi ha ricordato Che questo gioco è in sconto La quantità di cose Che SEO fa Mentre registra Con Power Pizza Comunque è incredibile Cioè va ancora in loop La canzone del mondo È quello che non riesce a fare Nel resto della settimana Lo condensa Mentre registra Power Pizza Le mie mani Devo stare ferme Con Power Pizza No Non faccio digitare Sto ripensando A quello che ho appena detto Una cosa in realtà È lievemente Misleading Nel senso che Allora Gli indizi C'è un sistema di indizi In game La cosa bella È che non vi danno Mai una soluzione Cioè Intanto per accedere Devi fare una sorta Di minigioco Quindi non è che È immediato Come in Dr. Layton Che paghi una monetina E ti dà l'indizio Ma gli indizi Ti danno sempre Ti dicono Hai provato a ragionare Su questa cosa Sono criptici A loro volta Io li ho usati In un caso E letteralmente Le cose che mi hanno detto Gli indizi Erano cose che avevo Già capito io Quindi ho detto Ok Lo conto come Non averli usati Perché non mi ha detto Niente di nuovo Se proprio Potete usarli Io però vi inviterei A cercare di astenervi Il più possibile Avete il permesso Di loro Grazie per aver dato Questo permesso Alle persone che ci ascoltano No no ma Regà veramente È proprio perché Alla fine te lo godi Ancora di più Certo Io quando ho usato Gli indizi Sono contento Che alla fine Gli indizi che mi ha dato Fossero cose A cui ero già arrivato Perché poi Quando sono riuscito A risolvere il caso Con le mie Cioè La soddisfazione Era 20 volte tanto Cioè E soprattutto Tutti i pezzi Del puzzle Vanno Cioè Si incassano Alla perfezione E alcune sono veramente Appunto Ti ripeto Sono casi singoli Ma la storia è orizzontale Quindi tu magari Un caso 50 anni dopo Ha un elemento Che si collega A una cosa successa 50 anni prima Quindi quando metti insieme Tutte le tessere del puzzle Ti senti intelligentissimo E poi È una figata Perché è scritto Benissimo Maledizione Super contento Davvero Come Phoenix Wright Fantastico Comunque Nick Hai notato Hai notato Che l'orro ha detto Un'altra delle sue Classiche cose sbagliate Ha detto Dottor Layton Ragazzi Che sbagliatura No è il DLC È il DLC Di professor No perché Nel senso Sapete che imbarazzo Che avrebbe Una persona Se per esempio Avesse una maglietta Con l'orro sopra Dice Oh no È stupido l'orro Ma lo sto indossando Per fortuna Che non esistono Non riesco nemmeno A immaginare Alla vergogna Che potrebbe provare Una persona Ma Già che siamo in argomento Vi sarete Forse accorti Che questa puntata Non era sponsorizzata Da nessuno O nello specifico Questa puntata È sponsorizzata Da Power Pizza Perché finalmente Abbiamo uno shop Ci abbiamo messo Cinque anni Ma finalmente Siamo riusciti A fare Uno shop Con il merch Di Power Pizza Yes E io lo sto indossando In questo momento Una maglietta gialla Non è assolutamente Una delle nostre magliette Non dire Che poi li Confondi le persone Andando su Shop.powerpizza.it Finalmente Troverete il nostro Shop online Io avevo provato A fare Negozietto.powerpizza.it Ma me l'hanno Annullato Te l'hanno cassato E hanno fatto bene In realtà In questo momento Nello shop Ci sono Sei cose Che sono Tre magliette Del giro del freddo Una maglietta nera Con il loghino Di Power Pizza La pizzerellina Una tazza E una shopper Una tazza bellissima Con le nostre facce La shopper Con la grafica Di Chiara Zuliani Una figata incredibile Partiamo piccoli Ma la cosa bella È che ci abbiamo messo Solo cinque anni A crearlo Ma poi in futuro Possiamo metterci Delle altre cose Volendo Sì 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 Perché l'idea Appunto adesso È di partire in piccolo Con queste cose Un po' emozionali Nel senso appunto La maglietta Con il loghino Ma le magliette Del giro al freddo Ma in un qualsiasi momento Possiamo espandere La cosa Quando ci va E volevo spiegare Perché non conoscesse Cosa sono Quelle cacchio Di magliette Di giro al freddo C'è una maglietta Con disegnato Sio Che ha una maglietta Con scritto Lorro Una maglietta Con disegnato Lorro Con una maglietta Con scritto Nick E una maglietta Con Nick Disegnato Con una maglietta Con scritto Sio E tutti e tre Sono disegnati malissimi Non nel senso Disegnati da Sio Nel senso Che sono volutamente Disegnati extra male Nel senso Che siano Le cose migliori Che si abbia mai fatto Ad oggi Però ok Grazie molte E mi piace Questo trend Di meno mi impegno Più la gente apprezza Ma soprattutto Ci sarà uno sconto Del 10% Su tutti gli acquisti Del nostro shop Per chi è già Nostro patron Per chi è già Un pittetars E avrete Visto Visto che è venerdì In questo momento Cast su Patreon Con il codice sconto Che potete usare Solo voi Pittetars Quindi grazie per la pazienza Ci abbiamo messo Cinque anni Ma ce l'abbiamo fatta Io non vedo l'ora Tipo di vedere Come potremo espandere Questa cosa Infilandoci dentro Delle caccate Ogni tot mesi Tipo In concomitanza Con degli eventi importanti Tipo non lo so Sio Che si macchi i pantaloni E mettiamo tipo La maglietta Con scritto Esatto Pantaloni macchiati Cose di questo tipo Vanno in dire Evviva Evviva Shop.powerpizza.it Grazie Powerpizza Per aver sponsorizzato Questo episodio Esatto Grazie shop Ma il grazie Come al solito Alla fine della puntata Va anche ai calzoni Che sono le persone Che ci supportano tantissimo Con la veemenza Con la veemenza Di cento soli Su www.datecideisoldi.com I soli hanno la veemenza Sta lasciami stare Ok Hai notato che Hai un pool Di dieci parole Che continui a remixare Per creare Delle frasi Che sono Lievemente diverse Ma lievemente simili Ma ti prego Prosegui Cosa stai dicendo Transumati via Dal mio polcoscenico Ok Va bene E andiamo a dire I nomi dei calzoni Di questa settimana Che erano a tema Dei pagani O idoli pagani Idoli pagani Dannato babbeo Perché ero stato Mega previdente Perché c'era il golden idol Già Cioè era già Quella cosa lì Sei veramente tipo Vivi nel 3000 Quindi Ringraziamo Sio va bene Come idolo pagano Grazie slide Per il calzone Di compleanno Oh Effettivamente la propica Tipo La madonna Sio Tipo Grazie a Dacu Dacu di Crash Che ci protegge All'ora di Bruga Non ho mai giocato Crash Bandicoot Non so se fosse giusto Io l'ho giocato Ma non me lo ricordo Perché non è una musica Cantata Grazie anche a Nick il giusto Grande divinità Del pizzuismo Tutto giusto Grazie Bananink Grazie Oscar Lambrusco L'olio E grazie Varg Che se ne sta seduto Sotto un albero A suonare il flauto Grattandosi uno zoccolo Di tanto in tanto Nice Fa uno Varg Best Grazie Microsoft Surf Nico Che è tornato Scivolando dal campo scuola In Umbria Ora copilota A dritta verso la mensa Solo una cosa Hai letto Microsoft Si legge Microsoft Grazie Nick e Maesh Paolini Sobramania Grazie ai miei idoli Siete voi Anzi sono io Perché con i miei soldi Che si pagano Le pizze Non sono gli dei Che sono pagani Di soldi Era un gioco di parole Medio Il tentativo Grazie Quello Per me doppio grazie Automaticamente A quello Però si Sta facendo una faccia Confusa Non è anch'io L'ho capito A dannazione Non sapete niente Delle cose belle Della televisione italiana Di altri tempi C'era Guzzanti Che faceva un santone Aveva tipo Questo idolo pagano Che era quello Che era un asse di legno Con una faccina disegnata E quattro chiodi Piantati in testa Doppio grazie a Valuca Grazie Volevo dire Grazie a quello Grazie a quello lì E anche a tutti gli altri Comunque sia Grazie anche a voi ragazzi E grazie alle persone Che ci hanno supportato Fino ad adesso Che ci hanno permesso Di fare questo lavoro Difficilissimo Di aprire uno shop Shop.powerpizza.it Perché siamo così lenti A fare cose Allora Perché facciamo diverse cose La cosa principale Che dobbiamo fare È guardare Girls 5 Ever Per finire la recensione La settimana prossima Tutto giusto Ma parlacene Nell'after show Pizza e chiudo Va bene Tema di settimana prossima Sono calciatrici E calciatori Con calci potentissimi Da allora è tutto Pizza e chiudo Wow Bang Rumore di calcio Pizza e chiudo Powerpizza It's a pizza with power Actually not a dish Better part We're home S-I-O L-O-I-R-O And I-Cola Tasty L-O-L-I-S-T-M-G Think he's ranging my league She was a console The king of the dog The show is over now Visita our website www.unpodcastveramentebellissimo Guarda ve lo consiglio proprio .com Guarda ve lo consiglio proprio 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 Guarda ve lo consiglio proprio